ben ritrovati in questo nuovo tutorial di playground oggi volevo illustrarvi una nuova funzionalità che recentemente ha introdotto playground e si tratta dell'editing delle immagini come abbiamo visto in un ultimo video che ho fatto per leonardo anche in playground è stata introdotta questa possibilità prima di entrare nel merito del tutorial vi invito a dare una reazione poi al video se vi è stato utile di condividerlo con altre persone che questi argomenti possono interessare ed iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per non perdere i futuri tutorial come sempre sotto al video poi trovate i link dei video precedenti eventualmente così se vi siete persi qualcosa trovate tutto comunque nella playlist intelligenza artificiale dove ho radunato tutti i tutorial che parlano di immagini realizzate con l'intelligenza artificiale di chat gpt insomma tutto ciò che riguarda questa tipologia di argomenti ne tratto di svariati altri all'interno del canale e sono tutti suddivisi per playlist quindi molto comodo eventualmente da cercare riguardano sempre comunque tutti gli strumenti che possono essere utilizzati per migliorare la vostra attività online ed ora proseguiamo col nostro tutorial entro nel mio account e vado in canvas qui ok allora praticamente le impostazioni sono un po sempre uguali rispecchiano quelle anche di leonardo qui già vi fa vedere eventualmente come potete generare anche la vostra immagine direttamente da qui comunque adesso vediamo step by step chiudo quindi adesso vediamo come procedere innanzitutto per la realizzazione possiamo realizzare l'immagine direttamente da qui e per fare questo bisogna essere su questa iconcina qui dell'immagine qui potete importare l'immagine se cliccate qui potete caricare un'immagine dal vostro computer o da playground stessa però se avete l'immagine da playground vedete qui dovete digitare l'url per caricarla ok il suo url al limite poi vi faccio vedere come fare poi per le dimensioni qui il box può essere vedete allargato per un massimo di 1024 per 1024 allora poi è possibile realizzare come dicevo direttamente un'immagine da qui per esempio adesso volevo far vedere alcune cose posso realizzare non so la tour e fell al tramonto quindi se io scelgo per esempio allora qui metto già ho già inserito le negative prompt voglio che siano queste cioè sfocature non voglio water maxi nietor e persone anche perché voglio solo il paesaggio quindi tolgo anche questo sul lato destro lascio il prom guidance a 7 le quali tendite il sa 50 i semplers lascio metto kdpm 2 e come filtro metto metto oil painting genero la mia immagine ok quindi se vi va bene questa è se no spostate il box cliccate sull'immagine la potete cancellare fare il download o una o copiare allora se voglio fare la prosecuzione di questa immagine devo sovrapporre così più sovrappongo più sovrapponete il box più avete la possibilità che capisca che dovete che dovete proseguire con questo stile di immagine però cosa succede in questo caso io ho scelto come filtro il paint se vado qui allora io metto che voglio aggiungere degli altri alberi quindi metto trees se vado qui cosa succede che non ho la possibilità di indicare questa tipologia di filtro vedete questi in pratica non sono previsti parliamo ancora di canvas beta e quindi non ci dà questa possibilità se io do vedete qui aggiungo alberi posto qui facciamo il più possibile per cercare di fargli capire che deve proseguire ok non avendo dato nessun filtro io devo prendere una buona porzione dell'immagine già preesistente in modo che mi riproduca gli alberi perché se allora adesso questo poniamo che mi vada bene se io faccio così allora se io la sposto un attimo così prendo poco di questo e lascio trees quindi genero ok vedete se io rimango distante e prendo una piccola porzione mi riporta un'immagine un po' diversa non riprende vedete che qua invece mi ha ripreso le stesse piante no quindi se non mi sta bene poi è ovvio che devo cancellarlo quindi vedete una cosa completamente diversa qui per esempio però mi ha fatto un altro sole quindi se io non lo voglio non devo fare altro che cliccare qui pulire la parte che non va bene ok questa praticamente è la gomma da cancellare qui come sempre c'è un cursore che vi fa la dimensione del cerchio vedete più andate indietro più rimpicciolite quindi in questa porzione qui io adesso vado inserire dell'altro quindi torno qui per dove c'è questa icona per avere di nuovo il mio box e cosa voglio fare voglio aggiungere qui riduco e aggiungo qui una parte cambio e metto sky e vediamo un po allora qui mi ha generato ancora il sole quindi secondo me nel qui nelle negative prompt proviamo a mettere sun e generiamo di nuovo vediamo se la capisce ok la capita quindi diciamo che mi va bene in sposto e do questo risultato questo essendo la parte che non mi interessa allora prendo la gomma alzo quindi la dimensione e vado a cancellare questa parte qua perché io non la voglio perché semplicemente non va bene ok torno qui riprendo il mio box ingrandisco e sovrappongo bene metto alberi vediamo un po generiamo perfetto vedete che ha proseguito impostando la stessa tipologia proprio di alberi colori eccetera ora poi se volete vedere qui avevo lasciato un pezzetto di quindi vado a cancellare ok quindi cliccando qui potete spostare vedete come volete ok o così tutto quanto vedete vi si muove ok un po praticamente quello la stessa cosa che fa in leonardo quindi tornando qui ritorniamo al nostro la nostra pagina per editare posso realizzare una prosecuzione dell'immagine più stretta per esempio così così ok e sovrapporre il più possibile e mettere alberi sempre anche di qua ok vedete quindi se sono soddisfatta e mi piace faccio il download qui cancellate qui potete duplicare mentre ora proviamo a vedere non dandogli alcun prompt così quindi vediamo non mettendo niente sovrapponendo bene comunque vediamo lasciandogli libero arbitrio che cosa genera non mettendo praticamente alcun prompt ok diciamo che ha capito e riproduce comunque cioè prosegue questo questa linea quindi non aggiunge nulla di nuovo aggiunge semplicemente degli elementi uguali senza che io imputi qua alcun prompt poi volevo farvi vedere quello che avevo accennato prima cioè importare un'immagine da playground qui come vi ho fatto vedere c'è l'url allora se io vado per esempio nelle mie immagini adesso già preparato questa qui copio questo link qui e lo riporto qui ok e mi caricherà poi la quell'immagine allora vi faccio vedere direttamente quindi qui vado qui e cancello questo che non mi interessa più torno qui vado in import image quindi abbiamo detto from playground incollo il link e importo ecco qui la mia immagine poi cliccando qui dove c'è playground il simbolo di playground potete anche vedete da qui uploadare dal computer o da playground undo redo cioè quando sbagliate qualcosa quindi potete cancellare save local copy quindi potete andare qui e salvare poi prendendo per esempio anche questa immagine ovvio che potete editarla come volete se io metto qui e voglio aggiungere per esempio un orecchino copiamo il prompt e vediamo cosa ci elabora ok eccolo qui allora mi sposto così se poi non mi piace allora non è necessario prima vi ho fatto vedere cancellare potete andare qua edit ando vedete e me lo toglie poi cosa possiamo e quindi poi lo generate di nuovo per vedere se vi elabora qualcosa di diverso ok adesso me l'ha fatto così comunque quindi se dovete aggiungere qualcosa ok non è bellissimo anche perché vediamo proviamo a togliere pendente vediamo se non lo fa pendente quantomeno che risulta attaccato al lobo e risulta meglio ha fatto pendente ma migliore di quello di prima ok poniamo quindi di lasciare questo anche la testa qui vorrei evitare che sia tagliata quindi così prendiamo gran parte di tutto e cosa dobbiamo fa andiamo a prendere il prompt che era qui di questa immagine lo copiamo lo portiamo di qui e vediamo un po porto un po così ok perfetto abbiamo risolto il problema della testa tagliata poi che altro possiamo dire quindi se ripeto dovete cancellare invece qualche elemento andate qui come vi ho fatto vedere prima e cancellate gli elementi che non desiderate allora un'altra cosa volevo farvi vedere è che non potete ridurla non è possibile ridurla se avete bisogno di ridurre gli spazi qui avete per esempio c'è la persona c'è il meno e il più meno 25 per cento vedete ve la riduce il cento per cento rimane grande così ok poi voglio far vedere un'altra cosa se non mettete alcun prompt di di generale va a random e ci pensa lui a generare qualcosa quindi vi dà anche delle idee così ecco qua ha generato una pianta per esempio spostiamoci di nuovo qui una donna quindi vedete non dando anche alcuni input qualcosa vi genera comunque quindi se non avete idee nel caso potete provare anche a lanciare così a random mi sembra di avervi detto tutto in linea generale di non aver lasciato tralasciato nulla pertanto io mi fermo qui vi ringrazio di avermi seguita tutti i link utili li trovate sotto a questo video tutorial vi invito nuovamente nel caso non l'abbiate ancora fatto di iscrivervi al canale per non perdere ulteriori video tutorial di mettere una reazione al video se vi è stato utile e di condividerlo con altri a cui questi tutorial possono interessare ciao alla prossima ciao